Buongiorno a tutti, siamo qui alla Davines di Parma, un'azienda nata all'inizio degli anni 80 dalla lungimiranza di imprenditori qui della zona, della città, la famiglia Bollati. La famiglia Bollati all'inizio degli anni 80 ha iniziato a produrre nel proprio garage di casa prodotti per la tricologia professionale. Si è sviluppata ulteriormente l'azienda con un'ulteriore gamma, la Comfort Zone, che produce dei prodotti anche per il corpo. Siamo un'azienda che negli ultimi anni ovviamente è cresciuta tanto, questo crescere però non ci ha portati a dimenticare i valori fondanti dell'azienda e della famiglia Bollati ma ci ha portati a farli ulteriormente sviluppare e crescere in quelli che sono i valori fondanti dati da sostenibilità del processo produttivo, di tutto quello che facciamo all'interno e rispetto ovviamente dell'ambiente, delle persone. Per fare questo negli anni ci siamo dotati ovviamente di certificazioni sempre più spinte. Noi siamo un'azienda certificata B Corp con tutti i valori che ha questa sigla. Per fare questo, per portarci quindi ad avere un prodotto veramente di gamma eccelsa, ci dobbiamo circondare ovviamente di partner, di fornitori che condividono questa visione di Davines. Davines aveva necessità di dotarsi di una struttura che desse la possibilità di avere più risorsa idrica. Abbiamo trovato la Bardiani e la CSF Inox, due aziende sul territorio alla quale abbiamo comunque prospettato questa nostra esigenza. Abbiamo avuto i primi contatti, ci sono parsi interessati non solo dal punto di vista meramente commerciale, ma ci sono parsi veramente interessati alla nostra visione di imprenditorialità. Questo si è tradotto ovviamente in un rapporto fiduciario che ci ha portato a realizzare con ottimo risultato l'impianto ovviamente di trattamento dell'acqua osmotica. La continua crescita del gruppo Davines ci ha portato a dover progettare, realizzare una nuova centrale idrica. Oltre ad avere bisogno di maggiore quantità di acqua, la nuova centrale idrica ci ha aiutato anche a diminuire i cicli produttivi, aumentare l'efficienza delle nostre macchine e per fare questo ci siamo avvalsi di uno studio di progettazione che insieme al nostro studio tecnico ha realizzato questo progetto. Una volta che abbiamo avuto il progetto era formato da molte parti, tra cui valvole e pompe, ci siamo confrontati e ci siamo chiesti chi ci può aiutare sul territorio con qualità, vicinanza, tempi di reazione, ricambi veloci per avere la massima efficienza dei nostri impianti. Queste sono le domande che ci hanno portato alle ditte Bardiani e CSF Inox. Terminato il progetto della nuova centrale idrica all'interno di Davines, sono presenti numerose apparecchiature delle aziende Bardiani e CSF Inox. Questo porterà nell'anno 21 ad avere una nuova collaborazione fondata sul formazione di personale Davines e su una manutenzione programmata di tutti questi impianti.